Tocca ad ascoltare un brano di Mianito, che si intitola Cabello. Ad interpretarlo sono quattro omili, ormai le hanno soprannominate così. Con Cabello, grande applauso, grande incoraggio, mi troverà All The Rock! Cabello, grande applauso, grande applauso, grande applauso, grande applauso. Io per un'altra leo salvirò, ritroverò così che più non ho. Per una vita insieme a te, ci metterò l'anima. Credo nella forza che mi dà l'amore, credo in una terra senza più parole. Credo alla passione, mi farò volare, già do paura di cambiare. In via giù e sopra questa terra sto, con le mie aree alle radici andrò. Per riscontrire dentro te, la mia divinità. Credo nella forza che mi dà l'amore, è un genere di razione cosmica. Credo nella forza che mi dà l'amore, credo nella forza che mi dà l'amore, è un genere di razza più confini. Credo nel coraggio che mi dà l'amore, credo nella forza che mi dà l'amore, credo nella forza che mi dà l'amore. Credo nel coraggio che mi dà l'amore, credo nella forza che mi dà l'amore, credo nella forza che mi dà l'amore. Credo nel coraggio che mi dà l'amore, credo nella forza che mi dà l'amore, credo nella forza che mi dà l'amore. credo nella forza che mi dà l'amore, credo nella forza che mi dà l'amore. che ci fa amare, 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 che ci fa amare, amare, amore. Vogliamo sentire i vostri nomi? Quanti anni hai, Claudio? Più o meno. Se non vuoi perdere, non è troppo difficile. Quanti anni hai? Sette e mezzo. Sette e mezzo. Sette e mezzo. Quinti e sei? E quanti anni hai? Dieci e mezzo. Sì, tutti i chiami? Chiara. E quanti anni hai? Dieci e mezzo. Scusa, Luca, ci ho applauso. Andiamo andando un primo con l'applauso. Qui come ti hai? Due. E quanti anni hai? Otto. Allora, ma nel gruppo andate d'accordo? Sì? Quindi potete continuare a esibirvi insieme ancora per il caso tempo. Allora facciamo un inboccatupo. Noi abbiamo assistito a un'anteprima saluta. Allora lo vedremo anche sui 8-10 per le stime. Complimenti. Bocca al lupo. E otterò. Potete andare. Ancora categoria junior. Il brano del gruppo di San Marocco di Solaia. Sola e te. Canta, sal, pena. Oh, a me è piaciuta. A me è piaciuta di pomodori. Bravo, mi piace piaciuta di pomodori. E' piaciuta di pomodori. Che caldo che stai. E' piaciuta di pomodori. E' piaciuta di pomodori. Oh, a me è piaciuta di pomodori. A me è piaciuta di pomodori. Ma facciamo l'intervista. Siamo andati in pieno. E' piaciuta di pomodori. Facciamola in servista. Allora, Flavia, com'è stato? Bella. Quanto l'anno ti vedo? Che c'è luce? Com'è stata questa esperienza? Bella. Bella. E tu, Alessia? Bella. E' emozionante, meravigliosa. Super. E tu, Alessia? E tu, Alessia? E tu, Alessia? E tu, Alessia? Bellissimo. Siete contente? Sì. Tanto, tanto, tanto. Volete fare una tournée in tutto il mondo? Sì. Sì. Io saremo più. Sì. Vabbè, allora, bocca al lupo. Grazie. E ci vediamo tra un po'. Sì. Ciao. Aspetta, gettààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà